Ciao a tutti ragazzi, oggi Allegri parlerà in conferenza stampa, poi magari questa sera andremo anche un pochino ad analizzare le parole che dirà nella vigilia contro l'Udinese siamo sempre in vigilia, cioè è incredibile, passa una giornata, giochiamo, un giorno riposo, vigilia passa una giornata, giochiamo, un giorno riposo, vigilia, ma è così, quando entri nel momento decisivo lo sai che è così però inizia a essere una situazione oggettivamente di gran rincorsa in cui fai fatica a goderti una partita magari fatta bene o interrogarti su una fatta male, ed è proprio per questo che ieri non ho toccato l'argomento Bonucci apriti cielo, in tanti mi hanno criticato per questa scelta dicendo come non parli di Bonucci addirittura uno, un commento è stato bellissimo perché mi ha detto ah quindi fai un post sugli ululati a Ken ma di Bonucci non parli prendendo le due cose e mettendole sullo stesso livello mi ha divertito, mi ha divertito non è che non voglio parlare di Bonucci, due motivi principalmente ho aspettato uno, non è un aspetto legato al campo strettamente e quindi come sapete prima mi concentro sul campo poi se rimane tempo di qualche episodio sporadico parlo il secondo perché volevo vedere molto bene quello che era accaduto perché io ero lì, tra l'altro, esattamente nella posizione in cui è accaduto il tutto ma non l'ho visto dal vivo, ero in quel punto lì ma ero troppo impegnato a leggere in ordine cronologico tutti i santi sul calendario da tirare giù per colpa di Alessandro quindi mi sono guardato e riguardato e riguardato la clip e ho cercato di leggere anche le ricostruzioni fatte da altri la ricostruzione è la seguente Bonucci sicuramente sbaglia ad andare lì con quell'atteggiamento a metterci la mano ma Bonucci non picchia nessuno Bonucci non tira uno schiaffo, non tira una sberla come in tanti stanno scrivendo questa ragazzi è diffamazione nel senso è una bugia, è una calunnia perché Bonucci non picchia nessuno poi se vogliamo dire che ha usato le mani per quello sì, certo, condivisibile anche che qualcuno dica non ha fatto proprio una gran bella figura ma se dobbiamo dire che Bonucci ha tirato una sberra a uno qua si sta facendo un processo nei confronti di Bonucci che non ha ragione di esistere e infatti non è stato squalificato ma ha avuto un'ammenda, una multa da 10.000 euro una roba del genere che tra l'altro è altissima per quello che è accaduto e si è rapportato anche a altre situazioni ci tengo a sottolineare fatto sta che io ero lì e mi sono visto Bonucci che si scaldava da praticamente prima del primo tempo supplementare quindi Bonucci che si è fatto avanti indietro avanti indietro in quel tratto cortissimo in quel circa metà campo per riscaldarsi senza mai entrare era pronto per farlo per battere il rigore io mi metto anche nei panni di uno che si scalda per oltre 30 minuti soltanto per entrare a battere un calcio di rigore all'ultimo secondo perde un trofeo così come io sono impazzito nei confronti di Alessandro così come tutti i tifosi della Juventus sono impazziti ad aver subito quel gol all'ultimo secondo se poi ne arriva anche un dirigente o un dipendente dell'Inter che intanto non era indistinta e che non poteva nemmeno trovarsi lì a dirmi qualcosa è facile poi dire eh no Bonucci che cosa fai ti giuro che se mi fosse arrivato lì un tifoso dell'Inter a dirmi godo finalmente evviva robe del genere almeno un testa di cazzo stai zitto gliel'avrei tirato così proprio per non gli avrei alzato le mani non sono una persona violenta però sono una persona che solitamente quando viene sbeffeggiata fatica a stare zitta e penso proprio che Bonucci sia questa cosa moltiplicata per 200 quindi questo è quello che ho da dire sul discorso Bonucci sicuramente non una bella immagine sicuramente non qualcosa di cui andare fieri però poi bisogna anche contestualizzare il momento bisogna anche contestualizzare il momento e capire la causa scatenante perché non è che Bonucci si è preso e ha detto adesso vado a picchiare quello lì uno non ha picchiato nessuno e due se c'è stata una reazione ci deve essere stato un trigger un innesco perché se no difficilmente uno si prende su e cerca di andare a fare polemica così mentre sta perdendo una finale a 5 secondi dalla fine e questa l'abbiamo messa via e spero anche che tanti che sono entrati soltanto per sentirmi dire qualcosa su Bonucci che volevano il massacro di Bonucci possano avere già chiuso il video scritto il commento di cacca e lasciato questo video perché ora invece andiamo a parlare della ciccia grossa partiamo da Scamacca come riporta Romeo Agresti Juventus e Sassuolo si incontreranno per Scamacca che dovrebbe arrivare a giugno quindi non in questa sessione di calcio mercato invernale mettono le basi per la costruzione del prossimo affare e ci sta a metterle in anticipo perché visti i tempi che ci sono voluti nell'andare a acquistare Locatelli è proprio col Sassuolo tra l'altro quindi noi a questo punto facciamo solo affari col Sassuolo ci diamo una mano di verde sulle strisce bianche e abbiamo risolto tutto io su Scamacca continuo a dire la stessa cosa secondo me 40 milioni sono troppi ma se la Juventus è intenzionata a prender lui perché ha visto dei margini di crescita di miglioramento incredibile ed è convinta che possa essere l'attaccante del futuro forse siamo addirittura troppo in ritardo che era l'anno scorso la Juve era già interessata a Scamacca e il Genoa era disposto a dartelo a privarsi del prestito del Sassuolo anche accedero a titolo definitivo intorno a 25 milioni è passato un anno Scamacca ha fatto sì qualche piccolo miglioramento si è beccato 20 milioni in più se la Juve è innamorata di Scamacca si aspetta ancora tra qualche mese lo paghiamo 80 milioni di euro quindi è ora di andarselo a prendere e fine quindi questo è il ragionamento su Scamacca è logico che con anche l'infortunio di Chiesa e fino adesso un po' di nulla sul mercato si potrebbe anche pensare di anticiparlo questo arrivo di Scamacca c'è da dire che io non so quanto Scamacca di punto in bianco buttato dentro questa Juventus dal niente possa dimostrarsi efficace risolutivo e soprattutto decisivo il rischio è quello di buttare nella mischia un calciatore che hai pagato tanti milioni di euro sul quale hai fatto un investimento che in questo momento non è in grado di darti quello che ti aspetti ma proprio perché la Juventus sei malata sotto ogni punto di vista ma lo sappiamo non è un discorso solo dell'attaccante è un discorso dell'attaccante in alcune partite è un discorso di squadra in altre e comunque vale sempre il concetto che una squadra se vince insieme si perde insieme anche quando succedono quelle robe lì come quella di Alessandro perché poi magari quella roba lì non ci deve arrivare in quel momento in quel contesto comunque calcio è uno sport di squadra quindi si vince insieme si perde insieme poi gli errori dei singoli e i meriti dei singoli ci stanno e vanno premiati o criticati a seconda di quello che accade quindi su Scamacca boh il ragionamento non prendo un attaccante adesso tipo Icardi con obbligo di riscatto perché poi quest'estate ho la libertà di scegliere l'attaccante se con l'attaccante Scamacca devo dire la verità un pochino di dubbi ce li ho però è la Juve che deve decidere non sono assolutamente io io non sono un granché nel capire quali giocatori in realtà diventeranno fenomeni quindi carta bianca la Juventus sperando che per dirne uno quando l'Inter compra Barella a 40 milioni penso madonna 40 milioni sono tanti per uno come Barella invece sappiamo tutti com'è andata la storia a proposito di Inter parlo di Di Bala parlo di Di Bala ragazzi perché è bastato una sconfitta con l'Inter un giornalista argentino che dall'altra parte del mondo twitta che Di Bala non vuole più rinnovare con la Juve per scatenare il pandemonio effetto domino tutto il mondo adesso ecco io l'avevo detto Di Bala non rinnova ecco qui chi l'ha detto l'ha detto quel giornalista argentino non è in fondo allora ragazzi su Di Bala la situazione è abbastanza delicata nel senso che parlarne giorno dopo giorno non ha senso infatti come ben sapete su Di Bala ho preso una linea parliamo quando rinnova o quando ufficialmente se ne va parlarne in mezzo che cosa serve è soltanto per riempire le prime pagine dei giornali per dire oggi la gazzetta titola Di Bala ultimo sgarbo alla Juventus perché va all'Inter l'Inter ultimo sgarbo la Juve che si piglia Di Bala parametro zero vedremo nel senso che io non ci credo fatico a credere che Di Bala vada all'Inter qua mi espongo pubblicamente ma qua è una sensazione più che un esporsi una sensazione la sensazione Di Bala non andrà all'Inter la sensazione Di Bala è innamorato da Juventus e vuole rimanere da Juventus questo è per quello che mi riguarda la mia posizione poi vedremo cosa succederà per me Di Bala rinnoverà e rinnoverà magari anche a cifre non altissime o non così alte come avevamo sentite io lo so che ci arriva bene che continui a dire certe cose però io mi affido a chi di mestiere fa il giornalista sportivo di chi di mestiere dà notizie e se sia Romeo Agresti sia Giovanni Albanese si stanno sbilanciando così tanto e sono due personaggi che stimo rispetto e che ho avuto il piacere di conoscere entrambi sono dei bravissimi giornalisti dei bravissimi professionisti e prima di parlare vogliono veramente sapere le cose come stanno se loro che considero giornalisti affidabili mi dicono ragazzi stiamo tranquilli su Di Bala perché è soltanto un problema burocratico legato al suo agente e appena c'è questa risoluzione della questione Di Bala viene ufficializzato io sto tranquillo se poi andrà via prenderò Giovanni prenderò Romeo e gli darò tante pacche nel culo a parte gli scherzi però questo è quindi mi sembra più un voler creare il caso e voler anche mettere un po' di zizzagna nei confronti della Juventus che già non sta passando un gran momento dentro il campo se aggiungiamo quello fuori dal campo diventa ancora più complicato l'ennesimo fuori dal campo io ragiono soltanto su una cosa io penso all'attacco dell'anno scorso Di Bala Morata Ronaldo e Chiesa perché bene o male questo era l'attacco dell'anno scorso Ronaldo non c'è più e se ne è andato a 15 milioni Chiesa in questo momento è infortunato e speriamo che possa tornare ad alti livelli anche perché dobbiamo riscattarlo abbiamo il diritto questo punto di riscatto non più l'obbligo ma se la Juventus non riscatta Federico Chiesa non rispondo più delle mie azioni Morata che tornerà a Madrid probabilmente questa estate o addirittura a Barcellona quest'inverno ora vediamo come si evolve la situazione a me pare di capire che Alvaro abbia già rimesso il focus principale su Torino sulla Juventus sul bianconero e basta tra il rigore parato a Pellegrini da Scesni con la Roma e la partitona che ha fatto con l'Inter e dal vivo visto la delusione di Alvaro mi pare che sia tornato completamente sul focus su Juventus però anche qua mia sensazione mia personale opinione presa di posizione su argomenti delicati e spinosi e di Bala che lo devi rinnovare se no lo perde a zero se no di questi quattro attaccanti ti rimane solo Chiesa immortunato diventa un buon problema anche perché poi va bene magari vai a prendere davvero Scamacca e poi chi ci mette intorno se anche Kuluseski è uno di quelli che è sempre perennemente sul mercato non ne è più io non credo che la Juve sia una completa demolizione è ovvio che si faranno delle riflessioni su tanti calciatori il primo probabilmente sarà De Litt sul quale si dovrà riflettere però non è che adesso tutti lasceranno la Juve almeno spero mi lo auguro concludo con Artur invece qua appare proprio in uscita già in questa sessione di calciomercato si sta parlando di Artur che potrebbe andare in Inghilterra all'Arsenal che sta cercando un centrocampista io qua sinceramente non capisco il senso invece ma ne hanno già parlato qualche video fa in una voce di scambio tra Artur e Luis Alberto e io vi dissi guardate io per Artur non è che io ci credo in Artur nel senso è sempre stato un calciatore che mi è piaciuto quest'anno l'allenatore non lo sta vedendo non gli sta concedendo spazio ed era prima di quelle partite che ha fatto sul finale di dicembre dove non mi ha convinto tantissimo ma in uno scambio con Luis Alberto lo faccio volentieri perché ho la possibilità di farmi sei mesi con un giocatore interessante che ritengo idoneo anche al contesto io vi di questo momento come Luis Alberto dato che a noi manca della qualità a centrocampo se invece il discorso è cedo Artur e basta ragazzi io non so se vi ricordate che il centrocampo dell'avimento si è composto da Locatelli Artur McKennie Rabiot Bentancur Ramsey Ramsey abbiamo già detto che lo diamo via se ne avvia anche Artur rimangono Locatelli McKennie Bentancur Rabiot vuol dire che poi devi intervenire sul mercato e significa anche che vai a toglierti perché il discorso di Artur è abbastanza collegato a quello di Locatelli in realtà perché Artur è l'unico giocatore che riesce a dare del tuo al pallone ok a parte Locatelli a centrocampo in una posizione centrale e anche se vogliamo bassa un giocatore che te la va a prendere la palla e te la può gestire bassa e non è tanto solo il discorso della gestione del pallone di Artur quanto più la gestione di Locatelli che è più libero di andare in giro per il campo a fare cose perché Locatelli lo sposti qualche metro più avanti diventa ancora più devastante perché lo diciamo non dal giorno 1 non dal giorno 0 dal giorno meno 1 Locatelli è una mezzala ma può fare regista se lo metti a fare regista non è il suo ruolo perché lui è una mezzala ma te lo può fare anche Artur non è un regista anche Artur è una mezzala però nel calcio di Allegri è molto più adatto a ricoprire la posizione centrale davanti alla difesa anche se vogliamo per impostare a 3 con la famosa salida la Volpiana che abbiamo discusso in un video qua due giorni fa alla vigilia di campionato con l'Inter o forse il giorno prima quindi pensiamoci bene prima di dar via un calciatore come Artur così a caso soltanto per risparmiare qualche milione di ingaggio perché se no diversamente significa che se davvero siamo messi male dobbiamo cercare di dar via tutti i calciatori rimarremo con non lo so una decina di calciatori in rosa per terminare la stagione però almeno non paghiamo gli ingaggi ma sapete da tifoso a me cosa me ne frega del discorso di pagare gli ingaggi è colpa di quelli che questi ingaggi li hanno garantiti a questo punto senza avere la possibilità di mantenerli però da tifoso io mi aspetto che la Juventus rimanga una squadra non dico competitiva ma quanto più competitiva possibile perché in questo momento abbiamo visto che forse anche le idee perché a un certo punto poi te lo devi mettere in testa io ve lo dico dall'addio di Ronaldo secondo me questa è una squadra che deve arrivare almeno al quarto posto cioè da prime quattro posizioni non di più può arrivare dal secondo al quarto come magari potrà arrivare quinta o sesta però a questo punto qualche riflessione anche al ribasso sul discorso va fatto perché non si capisce è una cosa che veramente ormai non si capisce una squadra che non si capisce una squadra particolare e niente queste erano le riflessioni che volevo fare sui quattro nomi chiacchierati del momento volevo dirvi la mia opinione volevo darvi la mia posizione ma voglio sapere anche la vostra su questi quattro calciatori vediamo cosa succede e intanto ascoltiamo cosa avrà da dirci Allegri oggi in conferenza stampa pre-udinese ciao ragazzi bacione